Musica Pronti? Parapara paravava Buongiorno mia amata e buon saluto paperotto gamers Come state? Spero tutto 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 bene A proposito dei paperotti Oggi c'è la maglietta dei paperotti Vi ricordo che il mio merchandising è in descrizione Quindi potrete avere anche voi la maglietta dei paperotti Mia e di Alessio Come state? Spero tutto 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 bene Lo scorso video è andato molto male Sì perché non sono riuscita a scambiare Il mio jungle egg che è quello che volevo fare Quindi oggi Proviamo a ripetere l'operazione Se non riesco a scambiarlo oggi lo schiudo Ve lo dico ma mi sento Che oggi ce la faccio Ho provato ad entrare in un server ricco cioè guardando le facce Delle persone quindi nella speranza Che ci fosse qualche skin Spero di averci preso Questa musica mi piace ma poi È troppo forte E niente quindi mamma mia che voglia Di aprire questo uovo Andiamo a vedere se ho beccato un server buono Ho sempre qui sotto la mia cosa gli scambi E quindi siamo pronti per vedere col jungle egg Che cosa mi scambiano Andiamo nei gift Yes Vediamo se è tutto attivo Chi può tradare con me? Tutti Nella speranza che sia un buon server Allora iniziamo vedendo un tucano Un unicorno neon Un t-rex Neon Un corvo Un shadow dragon Una renna artica Un'altra renna artica Un'altra renna artica Qua è il server delle renne artiche Ok siamo entrati ma per ora nessuno Mi ha mandato niente Nessuna richiesta Strana come cosa Di solito arriva sempre qualcosa Cambio il jungle egg Iniziamo subito Che cosa mi mette il nostro amico Yako Un frost dragon No scusatemi Non frost dragon Una frost fury E basta Non penso che li valga Vediamo un po' Grandissima perdita Proprio grave 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 Questa perdita LOL for fun 787 Mi potrebbe offrire una mucca ride Ok Un canguro fly E ride Un coccodrillo Allora Un lama Un tacchino Mi mancano tutti questi pet Uh ma cosa mi sta offrendo ragazzi Tutto il suo inventario Ah no forse mi sta facendo vedere Ok mi sta facendo vedere il suo inventario Per questo ovviamente Ehm ragazzi Vediamo che cosa sta levando Ehm un unicorno neon Ehm questo mi sta facendo vedere tutto Ma devi dirmi che cosa vorresti darmi Allora diciamo che potrei accettare per Ehm non lo so Un lama Un coccodrillo Mi mancano Ehm sapete che non lo so Dovresti farmi tu le offerte Facciamo così Io declino Perché non mi piace Perché io non so niente Quindi tu mi fai l'offerta E io accetto Mickey Uh una queen bee Neon Un golden egg Allora vediamo Una queen bee Neon Questo Com'è Anche questo è neon Fly ride Ok Una queen bee Sempre neon Fly ride Vediamo Small loose No perdita E un golden egg però Aspettate E un golden egg Sempre in perdita comunque Me lo da Quindi no grazie No grazie Cioè capito Quanto vale questo uovo Signore e signori Questo uovo vale tantissimo Lost demon girl jady Un cane della prateria Un cerbero Un drago Un grifone Sei una sciampona come me Tesoro No grazie Giannelless Vediamo Una rena artica Che mi sembra che con la rena artica Io sia comunque sotto Fly ride Sono comunque sotto Sì Ok Ha declinato Ma comunque avrei declinato io Alla F Mi mette Un t-rex neon Due Drake Due papere Un coccodrillo ultra raro Allora facciamo così Proviamo a vedere Un coccodrillo Ride Poi Due golden egg Un tacchino Non trovo il tacchino Eccolo qua Il tacchino Poi ha messo Un t-rex neon Vediamo il t-rex Neon Prendiamoci già qua Small lose Ah ok È proprio small lose Due swain Due cigni Vediamo un po' Cigno Cavolo a me sembrava un bel trade E invece non era un bel trade Un altro cigno Small win Piccola vittoria A me non dispiace eh Potrei accettarla Piccola vittoria Eh ok Stava Ha tolto Sta facendo Non lo so Dei cambi Vediamo Mi ha aggiunto Un dodo Quindi un altro leggendario Eh Boh raga Non lo so Non lo so I due cigni Non mi dispiacciono Il coccodrillo Il tacchino Mi ha aggiunto Anche un dodo Vediamo Vediamo Dodo Ok Piccola vittoria Non lo so Teniamo il nome Alaef 21 E magari dopo Gli mandiamo il trade Mi piacevano i due cigni Però Ma non che mi interessi La grande vittoria Semplicemente Che ho appena iniziato il video Magari era già il primo trade Poi magari mi pento Come l'altra volta E che ho detto No all'inizio video Non voglio scambiare E poi invece avrei dovuto Scambiare tutto Eh Lui mette un metalox Una moto No non mi interessa Oh Finalmente arrivano un po' Di richieste Ah Li slout Mettiamo sempre Il nostro jungle egg Un arctic Neon Ma penso che questo Li valga Quindi sicuramente Non accetterà Però questo lì Dovrebbe valere Al 100% Infatti ha declinato Max leather Qualcosa Mette un arctic Che lo vorrei fare Perché io ne ho già una Per regalarlo a uno di voi Perché ho visto Che è il dream pet Di tantissimi Però No non vale Solo questa cosa qua Sono in big loose In big loose In big loose Qualche altra offertina Cioè Non ne vorrei Tanti piccoli Ne vorrei uno grosso Di pet Cioè non so che cosa valga Uno bello grosso Un cappello di natale Ok Ah sta Tu vuoi un jungle egg Per un cappello D'elfo No grazie Poi Vediamo se c'è Qualcos'altro No raga Sono circondata Da inglesi I'm your fan I'm sob Ma non è vero ragazzi Vedete solo il nome d'oro E pensate chissà cosa Allora Aleph di prima È sempre lei T-rex neon Dodo Golden dragon Due golden egg Uno schiele rex Ma interessavano i cigni in realtà Un tucano neon Un cigno Allora facciamo così Il coccodrillo mi piaceva Il coccodrillo come fa Allora qua c'era un T-rex neon Poi lo schiele rex Che dove troverò C'era uno di questi Raga non lo sto trovando Eccolo qua Sempre in perdita Un bandicoot mega Due uova d'oro A me l'uovo d'oro Non mi dice molto eh Sempre il loose Un gatto Un ginger mega No io vorrei un coccodrillo Se aggiungesse un coccodrillo Vediamo Small win Chiamoli Crocodile Toglimi qualcosa E metti un crocodile Toglimiti qualcosa Oh Allora Eh no Ma aspetta Mi ha levato però Mi ha levato questo Mi ha messo un crocodile Mi ha messo un tucano neon Fammi vedere un po' Col tucano neon Piccola vittoria Raga a me interessa Lo scheletro Il coccodrillo Vai Proviamo Aspetta no Sta cambiando qualcosa Vediamo Il bandico Bandicoot A me non importa Però possiamo fare Swain No Bandicoot So che vale di più Mega Ma non mi interessa Non mi interessa Il bandicoot Mega Se mi mette il cigno Cioè prevesco stare Ma averne un altro Ok Così mi piace molto Penso che sia un ottimo trade Adesso lo andiamo a vedere Faccio subito una foto Vediamo se funziona Che l'ultima volta Non mi ha tradato Cioè mi dava dei problemi L'ultima volta che ho fatto un trade Così penso che sia Uh 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 Mi ha messo anche Non avevo neanche visto Un golden dragon Quindi tre uova Vediamo Vedete che T'ho buggato Non gira questa roba Non sta girando questa roba Perché sono rotta Peccato raga Era un trade pazzesco Devo Boh non lo so Riavere il computer Non so che cosa fare Raga ora sta girando Ora sta girando Trade fatto Oh mio dio Trade fatto Allora adesso Andiamo un attimino In casa Mettiamogli i cuoricini Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Uh uh Allora continuo a dire Oh my god Mi sa che è felice Andiamo a vedere Se ho fatto giusto Vediamo eh Ho fatto la foto Così controllo tutto Allora Neon Mettiamo tutto correttamente Quindi mi ha dato Un questo Neon E anche Ride Poi Mi ha dato Un dodo Fly Ride Ok Poi mi ha dato Un Un questo Fly Ride Poi mi ha dato Due uova d'oro Poi mi ha dato Uno Scheletro Ride Poi mi ha dato Un tucano Ah vi ricordo che non scambio con i fan Quindi questi non sanno chi io sia Un tucano Neon Fly E ride Un coccodrillo Fly E un cigno Ride Andiamo a vedere Win Allora non win gigante Ma comunque sono in vittoria Quindi direi che ho fatto Ho fatto delle cose molto belle Wow Non ho più il mio uovo Ma spero di recuperarne Un altro Prima o poi Se avete uova Ve lo dico sempre Che siano Ossiegg Fossil egg E specialmente Safari Sto disperatamente Cercando un safari Jungle Mi ha scappato l'ottino O Christmas egg Scrivetemi nei commenti Scrivetemi anche quello che volete In cambio Che io qualcuno di voi Poi lo contatto E Facciamo questo trade Se no Altrimenti Ho un profilo Che però non sapete il nome Su Traderie Per fare questi trade Perché almeno riesco ad averli Un po' più facilmente Perché io Shoppo Compro E quindi accetto Vediamo un po' Come sono i miei pet Il mio cigno Che carino Si chiama Fiocco di Di neve Vabbè adesso gli ascio i nomi così Ma tanto questi qua sono miei Quindi potrei scambiare i nomi Un coccodrillo Kami Che carino Ma poi sono anche tipo No questo è Fly Mi sembrava fosse Fly Ma che carino Poi A me non piace Fly Mi piace Ride Un tucano neon Ma stupendo Bellissimo Mango Poi Uno scheletro Questo mi mancava raga Ah ma quindi Perché io vedevo che si illuminava dentro In realtà non è neon Ma è normale Quindi si illumina così E allora com'è neon Che brilla ancora di più Perché non lo so E poi ho due golden egg E una Che carini Una golden egg Tra l'altro come si ottiene il golden egg Connettendomi a 660 stelline Una golden egg vorrei regalarvela a voi Quindi mi dite nei commenti Come posso fare per fare un giveaway Regalarvela a voi Visto che noi due facciamo una testa E poi non è finita Un golden dragon Non mi piacciono molto Sono quelli che sembrano color di arrea Però vabbè È sempre figo Un dodo Che ce l'avevamo già Ma lo possiamo usare per gli scambi E un t-rex neon Raga è stato In sito dice win E non big win Ma per me è stato Wow È stato veramente figo Vediamo se ho qualche uova da aprire Soltanto un ossiegg No raga Ossiegg Royal egg Devo scambiare ancora la mia Turtle neon Guardate quanto è bella Questa l'ho ricevuta in vacanza Sono riuscita a fare un bello scambio Mi è costato molto A livello di item Però ce l'ho fatta Apriamo un ossiegg Nella speranza che mi esca Il nostro Kanguro Oppure Turtle Sono Sono molto soddisfatta Posso dirlo E vi ricordo che tra un po' Uscirà il giro del mondo In 80 giorni Tra l'altro vorrei mettervi il trailer Perché c'è già la mia voce nel trailer E poi forse Riusciamo Verso Milano A fare la prima Insieme Nel senso che Gratis per voi Penso 100-200 di voi Possano venire al cinema con me A vederla in anteprima Sì che gioia Forza Ossiegg Ossiegg Oh 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 Raga inizio ad avere Dei bei pet In uno dei prossimi video Vi faccio vedere Tutto il mio inventario Perché visto che piace molto E tanti mi hanno chiesto Sabri fai vedere il tuo inventario Quindi direi di sì Cibo Con la scusa che raga Adesso mi si schiudo le uova in tre E molti li porto a due quest Magari la notte Mentre Ale dorme Ci metto un attimo Non devo più aprire le uova in casa Perché mi porta sfortuna Australian Kelpy Che non è un Australian Kelpy Guardate È palesemente un gogo Ne ho già un po' di Australian Kelpy Ma vabbè Prima o poi Poi li scambierò Ve li regalerò Non lo so Detto questo Registro da 23 minuti Poi ovviamente voi ne vedrete meno E sono felice Sono felice Ho fatto dei trade Che mi sono piaciuti molto Scrivetemi che ho dato nei commenti Se sono stata brava A fare questo trade E specialmente Come fare per regalarvi un golden egg Io vi mando un bacio Vi do appuntamento a domani Con il prossimo video E ricordatevi che vi amo tanto Penso che il mio preferito di oggi Sia il coccodrillo Oppure il cigno Se direi di sì Ciao amori Grazie a tutti Grazie a tutti